Bioetica, una rivoluzione postmoderna, è il titolo del libro di Francesco Paolo Casavola, presidente merito della Corte Costituzionale. L'incontro apre il ciclo La strada della pace e il dialogo, proposte di riflessione e impegno nel mondo globalizzato, organizzato dall'Arci Confraternita, il cui primicerio è Vincenzo Galgano, ex procuratore generale a Napoli. All'incontro ha preso parte anche Monsignor Angelo Spinillo, viscovo di Averse e vicepresidente della CEI. La bioetica è sicuramente il nuovo del mondo nel quale ci stiamo muovendo e il lavoro del presidente Casavola è sicuramente illuminante in tutto questo. Ci permette di coglierlo come la rivoluzione del postmoderno, cioè la rivoluzione che in un tempo di incertezze, qual è appunto il postmoderno, perché è venuta meno quella fiducia che si aveva nella scienza, nella tecnologia, che sembrava poter risolvere tanti problemi del mondo. Oggi c'è bisogno di qualcosa che ci dia un'indicazione nuova.